Ciao ragazzi, in tanti mi state chiedendo un giudizio sulle parole di Adani di Cassiano di ieri sera alla Bobo TV sulla Juventus, come ho già spiegato su Instagram, ma un breve ripassino, non fa male neanche qui, non è che ora il mio target sarà la Bobo TV e tutte le volte che parleranno della Juventus, bam, parlerò di quello che hanno detto bacchettandoli dicendoli non dovete dire così sulla Juventus, anche perché semplicemente l'analisi di ieri sera di Adani mi è sembrata abbastanza verosimile, la condivido in gran parte, poi ovvio mi dispiace sempre quando devi inserire termini forti che è stata la grande critica non sul contenuto ma sulla forma dell'esposizione che ho utilizzato e quindi quando parla di servitù, di servi e quindi quando si parla della libertà di opinione e poi mi si dice che c'è della servitù allora le due cose vanno in netta contrapposizione, quello criticherò sempre, il mio cavallo di battaglia, soprattutto quando si parla di comunicazione legata al mondo del calcio che è il mio mestiere a tutti gli effetti e quindi anche loro, dato che li ritengo a tutti gli effetti i miei colleghi quindi quelle sono cose che non condivido però il discorso di Adani penso che figli abbastanza liscio e infatti nel video di oggi che ho pubblicato in pausa pranzo ho ripreso tanti punti, spunti di riflessione interessanti e anche dati dal loro intervento e li ho fatti i miei ma erano argomenti dei quali già volevo parlare quindi se volete sapere un po' come la penso vi andate a recuperare il video di oggi dove sono trattati con gli stessi argomenti senza bisogno di dire ah ho parlato della bobo tv e di quello che hanno detto per quanto riguarda Cassano invece scusate il breve scursus però uno che mi dice non capisco come si faccia ad esaltare Vlaovic e subito dopo mi dice no guarda io la partita di Juve non l'ho vista perché non ne ho bisogno allora lì poi cade tutto, la libertà di pensiero e di opinione c'è ovviamente però poi difficilmente la tua opinione può pesare, può essere pari a quella di qualcuno che invece l'ha partita alla vista e quindi ha elaborato le informazioni a sua disposizione e le ha tradotte in un'opinione quindi un'opinione prevenuta e un'opinione sincera l'opinione sincera peserà sempre di più rispetto a un'opinione prevenuta nata su qualcosa di cui non hai conoscenza ma questo penso che valga nella vita di tutti i giorni e non solo nello sport quindi volevo metterlo in chiaro perché in tanti mi state chiedendo ma non ne parli quella non ne ho bisogno nel senso che tanti concetti sono passati e sono in quel video semplicemente non ho detto dico questo perché a Dani e Cassano ho detto questo quindi due minuti tre minuti di video per riassumere questa situazione qua e per concludere poi iniziamo davvero il discorso dicendovi anche che qualcuno sta continuando sul discorso Scudetto dato che gli ultimi due video comunque vanno a toccare lì voglio mettervela giù nel modo più semplice possibile perché ieri vi ho parlato di condizioni per credere lo Scudetto oggi invece vi svelo come la Juventus vincerà lo Scudetto questa è la ricetta per vincere lo Scudetto da parte della Juventus vincere tutte le partite da qua alla fine e sperare che l'Inter, il Milan e il Napoli invece in Champions non le vincano e qualcuno mi dirà eh sì grazie al piffero Luca però di questo stiamo parlando ora che ve l'ho buttata così in faccia la verità assoluta perché la Juve le deve vincere tutte gli altri devono perdere i punti di vantaggio nei confronti della Juve penso che si possa andare avanti perché voglio essere veramente il più razionale e cinico possibile questa è la ricetta così la Juve vincerà lo Scudetto al 100% se le altre rallentano e perdono i punti di vantaggio che hanno rispetto a noi noi le vinciamo tutte e vinciamo lo Scudetto 100% questo ve lo posso mettere per iscritto grazie al piffero ancora però questo è e ora parliamo invece di Dybala perché pare, pare prendetelo con le pinze, non abbiamo conferme ufficiali ma c'è questa voce che circola che ci siano novità sul rinnovo di Paolo Dybala del contratto di Paolo Dybala quali sono queste novità? che la Juventus a breve andrà a sottoporre al calciatore argentino un rinnovo alle stesse cifre pattuite intorno a ottobre, novembre, dicembre quindi 8 milioni fissi 2 di bonus che andranno a diventare parte integrante e fissa dell'ingaggio quindi 10 al trascorrere degli anni se dovrebbe essere 5 o 6 anni di contratto adesso vediamo comunque dovrebbe poi nel tempo diventare parte fissa e portare Dybala a percepire 10 milioni di euro all'anno Chiellini Chiellini è infortunato fuori 20 giorni probabilmente salta anche la Champions League andata contro il Villareal significa che d'ora in avanti il capitano della Juventus sarà Paolo Dybala perché il vice capitano disegnato da Massimiliano Allegri è Paolo Dybala qual è però il punto focale del discorso riguardante il rinnovo dell'argentino? che la Juventus avrebbe detto ok Paolo questo è il contratto puoi firmarlo rinnoviamo alle tue cifre alle tue condizioni ma c'è un ma se avevamo anche stabilito pattuito una parte di 4 o 5 milioni per il tuo entourage magari anche di 10 però 4 o 5 milioni è la cifra che la Juventus non andrà a versare esempio pattuito 10 milioni per il nuovo di Dybala con l'entourage di Dybala bene di quei 10 ne togliamo 4 o 5 rispetto agli accordi iniziali questo potrebbe essere e potrebbe soprattutto spiegare perché poi la Juventus a un certo punto si è tirata indietro e ha detto ci pensiamo Organtun ora è ufficialmente un procuratore accettato anche dall'AIA prima non poteva farlo c'era questo inghippo la Juventus non poteva far firmare a Dybala perché Dybala aveva promesso a Organtun la possibilità di guadagnare essendo suo procuratore da questo rinnovo del contratto per aver mediato e trattato il rinnovo di contratto e quindi la Juventus potrebbe essersi stizzita semplicemente dicendo ok il rinnovo è qui pronto sul tavolo Dybala avresti potuto firmare a ottobre a settembre a novembre a dicembre quando la Juventus ha deciso di sottoporre questo rinnovo e non lo poteva fare semplicemente perché bisognava attendere che Organtun diventasse ufficialmente un procuratore anche in Italia si incastrerebbero tutti i pezzi del puzzle Juventus è stizzita da questa cosa si va avanti Dybala che dice ok ora Organtun è procuratore ufficialmente la Juventus chi dice sì ora che però abbiamo aspettato aspetta un attimo te che cerchiamo di capire come incastrare questa cosa perché a noi non conviene più adesso e questi mesi di attesa potrebbero per forza aver inclinato il rapporto tra Dybala e la Juventus qualcuno mi parla già del discorso della sostituzione il discorso della sostituzione ragazzi è completamente differente Dybala lì aveva voglia di giocare a calcio perché la Juventus si stava divertendo in campo era una serata speciale stava andando tutto per il verso giusto Paolo voleva pure fare gol c'era andato vicino e quindi quella è una rabbia sana quando un giocatore esce dal campo perché vuole continuare a giocare è una rabbia sana e come vi dicevo prima Paolo Dybala dovranno avanti sarà il capitano della Juve nelle prossime partite e torniamo anche al discorso di mercato perché questa sessione di calcio mercato la Juventus si è affidata completamente al suo allenatore e ha detto che cosa serve all'allenatore per rimettere a posto la squadra un mediano e un centro avanti nome e cognome Zaccaria Vlaovic eccoli qua Dujan e Denis arrivati a Torino e sono arrivati direi abbastanza bene e quindi proprio da qua io penso che si debba ripartire sul mercato ciao Massimiliano Allegri sono la Juventus Paolo Dybala in scadenza lo rinnoviamo sì o no perché Allegri l'altro giorno su De Sciglio ho detto ci pensa la società ma davvero credete che Allegri non metta bocca con la società nel proporre almeno un rinnovo contrattuale e in un momento così delicato la Juventus non va da Massimiliano Allegri a dirgli ti serve Dybala oppure no e se è vero come è vero che Paolo Dybala era stato messo al centro del progetto quest'estate è stato disegnato da Massimiliano Allegri vice capitano della Juventus sopra Bonucci per le ragioni che ha già spiegato Allegri in conferenza stampa di presentazione al ritorno ed è vero come è vero che la Juventus ora pende dalle labbra di Massimiliano Allegri per quanto riguarda il mercato come un po' immaginavamo quest'estate dato che è stata la nostra prima idea poi magari per necessità economiche quest'estate non è stato possibile nel mercato invernale abbiamo visto che la Juventus è andata dritta su questa linea che condivido al 100% quella di sposare le richieste allenatore qualsiasi allenatore possa essere quindi io Juventus ti chiedo Massimiliano rinnoviamo Dybala sì o no? Allegri ti dice di sì e allora la Juve prova a incastrare una nuova proposta a Dybala che però non faccia nemmeno perdere completamente la faccia alla Juve in questa situazione che cosa succede? che Paolo Dybala si ritrova tra due fuochi e quindi accetto le condizioni della Juventus e faccio tra virgolette un torto a chi ho scelto come procuratore oppure la mia fedeltà nei confronti del procuratore mi porterà ad allontanarmi dalla Juventus e questo potrebbe spiegare le parole di Arriva Bene di qualche mese fa era intorno a dicembre quando dice ci sono calciatori che devono capire devono scegliere tra il procuratore e la maglia e con questo focus e con questo dettaglio di soldi in meno al procuratore e le parole di Arriva Bene andiamo a spiegare un'altra cosa quello che sembrava un attacco diretto di Arriva Bene nei confronti di Dybala diventa un attacco della Juventus nei confronti di Horgantun e questo voler proporre comunque a Dybala lo stesso rinnovo vantaggioso a grandi cifre per tanti anni renderlo il centro del progetto della Juve come vuole l'allenatore e come vuole anche la società andando a rendere Paolo Dybala il giocatore più pagato all'interno della rosa della Juve ma a patto che dimostri la sua fedeltà alla Juventus anche sacrificando tra virgolette questo rapporto che ha avuto col suo procuratore e che non ha permesso immediatamente a Paolo di firmare il rinnovo del contratto con la Juve e ci saremmo evitati quella scenata con l'Udinese ci saremmo evitati queste illazioni posta e sostituzione con l'Ellas Verona e quindi forse ora la palla davvero passa a Paolo e forse davvero in questo momento i tifosi della Juventus potranno decidere di essere contenti per il rinnovo di Dybala che sceglie la Juventus di fronte a tutto e a tutti perché la Juventus rimane sopra a tutto e a tutti e ora è il capitano della Juventus Paolo Dybala e andrebbe a diventare il giocatore più pagato della rosa della Juventus e verosimilmente il capitano della Juventus dato che Giorgio Chiellini a breve si ritirerà oppure se rimanere fedele legato a un procuratore che è diventato procuratore adesso perché fino a poco tempo fa e comunque tuttora in Argentina vende macchine per professione e affidare il suo destino a qualcuno che in questo mondo non è per niente esperto e che potrebbe poi presentarlo ad altri club che sicuramente non ne farebbero il centro nevralgico del progetto quindi sta tutto lui e io come ben sapete al di là di tutto questo discorso illazioni incastri la mia opinione è chiara e definita decide l'allenatore se l'allenatore mi dice guarda io con Vlaovic Dybala lo voglio al 100% fatelo firmare adesso fatelo firmare adesso perché l'allenatore che poi deve metterlo in campo deve ripartire deve giocare io personalmente a me Paolo Dybala piace non lo nascondo non l'ho mai nascosto io ho comprato tutte le maglie di Dybala non mi stancherò mai di dirlo quindi far andare via Dybala oltre che qualcosa a livello tecnico di mancanza che poi avrebbe la Juventus sarebbe un dispiacere poi nessuno è più della Juve non lo è stato quel signore lì non lo era Ronaldo anche se è sembrato potesse esserlo per larghi tratti non lo è stato Buffon non lo è Vlaovic non lo è Allegri nemmeno Agnelli nemmeno i dirige nessuno ce l'ho vinto se è sempre la base di tutto quindi giocatori se ne andranno arriveranno altri ci affezioneremo ad altri però dispiacerebbe a me personalmente di perdere Paolo Dybala soprattutto a parametro zero e soprattutto se questa voce dovesse essere confermata per un senso di riconoscenza nei confronti di un non professionista a tutti gli effetti o comunque che ora è professionista ma che non ha tutta questa esperienza in questo mondo proprio perché è diventato ufficialmente procuratore da poco fatemi sapere un po' la vostra opinione se rinnovereste Dybala oppure no se vi sembra verosimile questa voce se potrebbe essere confermata e tutte queste cose e noi ci vediamo con un prossimo video e noi ci vediamo Grazie.